Avvocata Tomasetti, in questo 2016 in quali settori il project bond e il project finance saranno più profiqui e in generale come vede questo anno? Sicuramente ci sarà un forte interesse sull'energy, confermato già un trend che è già presente dal 2015, quindi ci sarà molta attenzione ai rifinanziamenti anche con strutture più complesse, emissioni di bond o misto bond project finance. E poi grazie anche a un'operazione chiusa dicembre dell'anno scorso ci sarà un'espansione dei settori, quindi non soltanto le rinnovabili che saranno comunque un settore interessante, ma anche il gas, le interconnessioni, settori pionieristici per il nostro project finance. Grazie Avvocata.